Cari amici e fedeli spettatori, benvenuti su questo canale. Vi invitiamo, per mostrare il vostro affetto e supporto, a lasciare un mi piace, un commento e, ovviamente, a iscrivervi al canale attivando le notifiche. Così facendo, potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime e incredibili notizie che ci apprestiamo a condividere con voi in momenti tanto intensi e significativi come questo. Ora, senza ulteriore indugio, immergiamoci in una storia che recentemente ha sconvolto e commosso il palcoscenico dello spettacolo italiano. Una notizia che ha pervaso il cuore di ciascuno di noi, creando un'onda di solidarietà e di preoccupazione condivisa. In una notte come tante, la famosa Gemma Galgani, nota al pubblico per i suoi momenti toccanti e indimenticabili nel programma Uomini e Donne, è stata colpita da un malore improvviso. Questo spiacevole evento ha necessitato di un intervento medico urgente, culminato con il suo trasporto in ospedale per degli accertamenti indispensabili. La Galgani, con la sua presenza avvolgente e carismatica, si è guadagnata nel tempo un posto di rilievo nel cuore dei telespettatori, e non solo. Infatti, la sua iconica figura ha regalato emozioni autentiche e sincere, diventando un volto amato e riconoscibile della televisione italiana. La notizia del suo ricovero ha generato sgomento e tristezza, toccando profondamente non solo i fanaccaniti del programma, ma scuotendo anche l'anima di Maria De Filippi, l'iconica conduttrice e amica intima di Gemma. La De Filippi, riservata e discreta sulla sua vita privata, non è riuscita a contenere il dolore, versando lacrime sincere di fronte a tale circostanza. Le condizioni specifiche del malore di Gemma non sono ancora state divulgate al pubblico, creando, comprensibilmente, una sensazione di ansia e preoccupazione tra coloro che, con affetto, seguono da sempre la sua carriera televisiva. L'intero panorama dello spettacolo italiano, in questo momento di tensione ed incertezza, attende con trepidazione aggiornamenti sulla salute di Gemma Galgani. A dimostrazione del profondo e sincero legame che unisce le due donne, anche oltre il semplice rapporto professionale, Maria De Filippi si è unita con il cuore e con lo spirito alle orazioni collettive per la pronta guarigione dell'amata Gemma. Questo evento ha evidenziato l'importanza delle relazioni umane, dell'amicizia e della solidarietà in momenti di difficoltà. Ora, mentre il mondo dello spettacolo trattiene il fiato, possiamo solo sperare che Gemma Galgani recuperi presto, tornando a brillare con la sua inconfondibile vitalità nel programma. Prima di concludere, amici, vogliamo sapere cosa ne pensate di questa sconvolgenza? Vi invitiamo a condividere i vostri pensieri, le vostre emozioni lasciando un commento qui sotto. La vostra partecipazione è importante, il vostro supporto è fondamentale in questi momenti e ci aiuterà tutti a sentirci più uniti e connessi. A presto!